Buongiorno dottor, mi risulta la vacca. Signore, io lo voglio, che desidera? Che si fa? Ascolti la macella. Massaggiatrisci. Mi capisci? Oh, non mi capisci proprio buona, signorina. Macella, massaggiatrisci. Finita di massaggiare. Finita di schibili cristiani, ma nemmeno. Ora che inta, ci sono cristiani per bene signorini e nobile. Quindi anche il posto, signorina, non avevo mai rinforzato. E ci hanno assaggiato la carina, io vado a stare. E' un po' di schibili arrangiata. Vabbè, non lo sapete, non lo sapete. Non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete. E la signora che assaggia un po' cosa? Eeeh, tu mi riesci a servire. Finita di schibili, non ci fa la pezzi la prima. Devi già scompare a te, è il signorina. Ma non ci ha studiato, mostri che la proprietà le stanno fatta bene. Tutto il posto. Svegli la mia, a prima un passo che si dice. E io? Guarda, che faccio la buona mia? Ma non è che non si usa il giro di un penale. La sopra. A tua storia era mia. Europee sera mia. O ogni debito vale, io che smetto di sonnare. Quali mecanismanali? Vengan! D recipes, questo figlio. Quasi qua! Usa un mice di me. No ne voglio usare. Oggi lo faccio con lei. E poi un po' da portare a portare o da portare. Vengece, vieni la schiava, mi ringrazio, portal! Olì, volevo vedere hai un pochino! E guarda cosa da portare a portare? Guarda, 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 guarda. Allora, e poi ci sei furia. No, così, dovevo andare a portare. Si, giusto che mi abbracciai la passata per la carattina. Ma vediamo le mie rotazioni. Ma io... Ciao amore, che bello di vederti! Amore, anch'io provo tanta gioia di vederti. Ed ecco di qui, a Casanova. Che strano, verbi, in questa casa. Correggia, cosa è questa casa? Nulla, nulla. Mi sembra strano perché mi ero piaciuto verbi e ne hanno fatto aiuto di prima. Questo è nuovo. Vediamo che ti posso dire tre stanze. Io lo so, c'è il territorio, destri bagni a sinistra. E tu come lo sai? E già come lo so. Già come lo sai? Sì. Queste casanliche sono molto bucate. Basta vedere che una si conoscono. Ah, sì, ecco sì. Il tuo padre ti raccordi aveva con la vetting via. Eh, con i vetting? Ti conoscevate? Non sappiamo per nulla. Perché me lo chiedi? Ora ti avviso. Ma dimmi, hai parlato a tua madre di noi? Sì, ma lui è troppo geloso di te. Sei bravigliato. Tutto si risolverà. Ora però non darei che sia fatto altro. Ma sei arrivato? Non lo so, ma devo passare andorata a prendere la licenza. Ciao, ciao. Ciao. Ci vediamo dopo. Ciao. 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 Sì, è una cosa giusta, non manco più, grazie all'onorevole, grazie all'onorevole, allora tolgo il tessuto, arrivederci signori, grazie, grazie all'onorevole, 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 grazie all'onorevo Non è stato un manato ancora. Non è stato il governo, non è stato il governo. Grazie. Grazie a tutti.